Ciao a tutti, che sviluppi ci saranno con lei, nella mia relazione con lei? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Nel frattempo iscrivetevi al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tremaschi, iscrivetevi al nuovo canale Felicità e Benessere, di questi posti link in descrizione. Allora mescolate le carte, tagliamo, giriamo, e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Ecco, ora concentrati su questa lei, della quale vuoi sapere che sviluppi ci saranno nella tua relazione e dopodiché scegliere la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Perché scelto la carta 1? Ma ci potranno essere buoni sviluppi e la relazione potrà andare avanti in modo tranquillo. La carta 2, sicuramente un innamoramento forte, lei si innamorerà di te. La carta 3, diciamo che sviluppando un po' più di forza interiore, gli sviluppi saranno sicuramente ottimi. La carta 4, niente, è un periodo di solitudine e di distacco in questo momento. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!